E' bella a tutti ragazzi, allora facciamo questo facilissimo e semplicissimo easter egg della season 4 Il bunker 7 che si trova qui su Zikistan Sbloccate questa calling card, sequenza di rimozione che fa la sua bella figura Allora dovete atterrare sul bunker, stando attenti a non morire perché c'è un po' di gente che vuol fare la stessa cosa E chi lo fa per primo vince, voi comunque avete i compagni di squadra che vi aiutano come in questo caso E la cosa diventa più facile e fattibile C'è questo tasto numerico, voi dovete inserire questo codice che non è 8 ma è 7 perché ho digitato male Quindi 7, poi 2, poi 5, 5 e 9 A questo punto si aprirà il bunker, entrate dentro, c'è un altro computerino qui, lo attivate E a questo punto vi da la missione, vi da l'easter egg e avete sbloccato tutto Poi dentro al bunker trovate anche le pistole che si potevano sbloccare nella season precedente Andatevi a vedere l'altro video e noi ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti